Gli Arabi e Maometto Al tempo di Maometto, la penisola araba era ricoperta essenzialmente da deserti e da steppe, qui erano però delle oasi in cui sorgevano alcune città importanti. Questa penisola, che si trovava in margine di due grandi imperi, quello persiano e quello bizantino, era attraversata da importanti vie commerciali. Una in particolare arrivava via mare dall'India, fino alla punta meridionale dell'Arabia. Qui le merci venivano sbarcate e trasportate via terra lungo delle rotte carovanire, dai beduini, cioè gli allevatori della penisola. Il Mar Rosso infatti era difficilmente attraversabile dalle navi a vela. Nelle oasi, in particolare quella di Almecca e di Medina, vivevano delle popolazioni sedentarie. Queste due città erano anche degli importanti centri religiosi, la religione era di tipo naturalista e politeista. Gli arabi erano divisi in molteplici gruppi tribali. Queste varie famiglie erano in preda a una conflittualità permanente. C'era una continua guerra per il controllo dei pascoli e delle rotte carovanire. All'Amecca c'era già un importante gruppo di templi e questi richiamavano dei pellegrinaggi. Questo archiva ulteriormente le famiglie che controllavano la vita cittadina. Queste due città, in generale in Arabia, cominciarono a diffondersi, nel periodo precedente alla predicazione di Maometto, anche le religioni monoteiste. Tra il V e il VI secolo si diffusero nuovi culti legati a correnti eretiche, eterodosse, cristiane, ma anche si installarono dei gruppi di ebrei e di zoroastriani. Nel VI secolo l'Arabia fu coinvolta nelle guerre fra i persiani e i bizantini. Le varie tribù si schierarono con uno con l'altro degli stati e le guerre furono particolarmente rovinose per l'intera popolazione araba. Questo aumento dell'aggressività si coniugò ad un aumento dell'interesse nei confronti della religione. Proprio in questo periodo si colloca la predicazione di Maometto. Maometto, chiamato dai cristiani, era un orfano povero, apparteneva a un ramo secondario di una famiglia, però di ricchi mercanti. Ve l'è posto sotto la tutela di uno zio, il quale gli insegnò e attribuì l'incarico di cammellire. Così ebbe l'opportunità di visitare la Siria e lo Yemen e di conoscere appunto gruppi di cristiani e di ebrei. Quando era già abbastanza un uomo fatto, intorno ai 40 anni, sposa una ricca vedova, Khadija. Questo gli permise di aggiungere la giatezza e cominciò a sentire in sé la vocazione per la religione. Così si ritirò a meditare. Iniziò a predicare e lui era già ammirato per le sue doti di intelligenza e di probità. E così, intorno ai 40 anni, cominciò a predicare alla Mecca, la religione di Allah, un dio unico. Ottiene il favore delle classi più umili della Mecca, però invece viene odiato dalle grandi famiglie, delle famiglie ricche della città, che sono una sorta di oligarchia che controlla la vita politica e religiosa del centro arabo. E queste, da un lato, temono di perdere il loro monopolio sulla religione, sul controllo di questi templi, appunto, della religione politeista. Dall'altro non amano sentire parlare di uguaglianza. Pertanto lo cacciano. Questa espulsione, la fuga, le gira, termina a Medina. A Medina, a Maometo, riesce a ottenere successo sia nella città, sia nell'Arabia del nord, del nord-ovest, diciamo così. Nel 630 è abbastanza forte da poter rientrare alla Mecca e abolire l'idolatria. La Mecca viene proclamata città santa dell'Islam e un po' alla volta tutte le tribù arabe riconoscono la supremazia della sua religione. A questo punto, però, nel 632, quindi poco dopo essere rientrato alla Mecca, Maometo muore. In tutta la sua vita, Maometo aveva predicato soltanto in forma orale, solo dopo la sua morte. Le sue parole furono trascritte nel Corano, appunto, nella lettura, divisa in capitoli, 114. E caratteristiche della nuova religione erano un rigoroso monoteismo. Non c'è altro Dio che Allah e Maometo il suo profeta. Questa religione, però, non si dichiarava completamente estranea alle altre religioni monoteiste. Al contrario, Abramo, Mosè e Gesù erano riconosciuti, ma solo come profeti. Secondo l'Islam, l'uomo deve sottomettersi totalmente ad Allah. Appunto, Islam vuol dire abbandono assoluto. Dopo la morte del fedele ci sarà un giudizio e poi un secondo giudizio, quello universale. L'uomo può essere o premiato con il paradiso, oppure punito nella Genna, l'inferno degli armi. Questa religione era assieme universale e comunitaria. Universale in quanto il messaggio poteva essere abbracciato da tutta la popolazione umana. umana, comunitaria, in quanto aveva un fortissimo impatto sui popoli armi. Essa disciplinò e unificò le varie tribù beduine che da un stato di continua guerra interna si trovarono unificate. Appunto, le lotte interne furono sostituite con la fedeltà alla religione. E al contrario, la fedeltà assoluta alla parentela si rivolse invece al Dio unico, Allah. Grazie. Grazie.